9 aprile 1995 muore a bodio l'omnago Paola Borboni. La Borboni è attrice cinematografica ma soprattutto teatrale. Nel 1918, a soli 18 anni, è già prima attrice in compagnia. In giovane età predilige ruoli brillanti, col passare degli anni passa invece a quelli più complessi e drammatici. Sempre molto disinvolta in scena, fa scalpore con una sua esibizione del 1925 a seno nudo. Nel 1972, più che settantenne, sposa Bruno Villar, di 40 anni più giovane.